Oggi abbiamo celebrato la festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. L'importante è che questa celebrazione non sia stata vissuta in modo retorico, ma al contrario abbia proiettato dei principi e dei valori anche per il futuro. Intagio ci è riportato indietro nel tempo alla prima guerra mondiale, alla Grande Guerra, che fu un'enorme carneficina, ma che per l'Italia segnò anche il termine, il completamento del risorgimento, perché in quelle trincee, in quel freddo, in quel fango, in quei patimenti si cementò lo spirito nazionale. Giovani che venivano dal sud e dal nord, ricchi e poveri, contadini e borghesi, intellettuali e analfabeti, scoprirono proprio in quel frangente drammatico di essere uniti ad un unico destino, di far parte di un grande progetto, cioè quello di dare un'Italia agli italiani. E' lì che si fusero insieme popolo e nazione. Bene, quindi quella Grande Guerra segnò una grande tragedia, ma anche una grande gloria per l'Italia. Per l'Italia che deve essere consapevole di quel percorso, deve essere più orgogliosa, più fiera di ciò che rappresenta in termini di storia, di lingua, di arte, di cultura, di paesaggio. E in tutto questo la presenza delle Forze Armate, così come morirono milioni di giovani nelle trincee, nelle battaglie della Prima Guerra Mondiale, oggi gli eserciti hanno compiti diversi. E noi dobbiamo essere grati alle nostre Forze Armate, la cui preparazione è riconosciuta da tutti a livello internazionale, e che si distinguono sia all'interno del nostro Paese, mantenendo la pace, la sicurezza, il dettato costituzionale, quindi gli ordini previsti dallo Stato, e che all'estero, ripetono, sono spesso impegnati nei quadranti più infucati e più problematici. Su tutto poi anche l'impegno delle Forze Armate nei frangenti più complessi della vita del nostro Paese, penso nel passato alle catastrofi ambientali, ultimamente anche alla pandemia. Insomma, presenze costanti di cui dobbiamo essere assolutamente orgogliosi.